E' sempre piaciuto la musica. Mio zio aveva un giradischi, quello che si caricava a mano, uno dei bei dischi 33 giri. Quale era la tua musica preferita? La mia musica preferita, al momento erano tutti dischi ballabili. Tra questi ce n'era uno, era una romanza della Tosca, di Puccini, si chiama, cantava il tenore Mario Cavaradossi e Luciano e stelle. E mi piaceva talmente tanto che me l'ero imparata a memoria e quando andavo a portare il latte, in bicicletta me la cantavo sempre. Me la cantavo e mi sembrava di essere anche bravo, ti dirò. Cioè bravo nel senso, sarà perché la cantavo così volentieri perché mi piaceva proprio. E fra questi c'era anche dei ballabili, vedi il waltzer di Strauss, cominciando dal Danubio Blu, la Marcia di Radeschi, insomma e altri dischi che i miei zii in suo tempo erano musica che andava e gli piaceva perché allora erano giovani anche loro, quei tempi, e qualche volta ballavano in casa tra amici, si trovavano lì in 8-10 e questo è rimasto lì perché i miei zii sono andati via quindi io lo usavo sempre, tant'è che davo anche noia. Mio nonno mi dicevo ancora ma basta, ma basta, smettla, smettla, perché dai da tosia. E allora forse dai dai mi riposavo, mettevo via il coso e poi magari il giorno dopo ero lì. E mi ero diciamo innamorato in questo giradischi, in tutti questi dischi. E strada facendo, portando il latte al padrone, alla signora Hilde, io cantavo. Nel frattempo era subito dopo la guerra, subito dopo la guerra, Claudio Villa cominciò a cantare Luna rossa e anche quella mi piaceva tanto e sono riuscito a imparare e a cantare anche quella perché poi a me piaceva la musica, non conoscevo niente di musica, di artistico, però come bambino amavo la musica, non c'è poco da fare. Tant'è che dopo 65 anni sono ancora qui, canto insomma, diciamo, proviamo, braviamo un po', ecco.